Musica Hello guys Allora, prima di tutto Scusatemi per questi giorni in cui non ho caricato niente So che sono stato un po' morto Cioè, un video si Un giorno, poi due giorni no Poi un altro due giorni si, poi Insomma, sono andato un po' a saltare Perché ultimamente sono abbastanza impegnato Con robe da fare Quindi non ho la possibilità di caricare Praticamente ogni giorno qualcosa di nuovo E me ne dispiaccio Ma oggi sono qui per un altro momento Chissà cosa Andando se mi sentite con la voce un po' così Perché ho il raffreddore, ho un po' il raso chiuso Allora Cosa siamo qua a fare? Beh, semplicemente ho aperto un mio gruppo Di Steam Il ShendCenter De La pagina Steam del canale di ShendVideogamer Trovate news Un modo per comunicare con me E tantissimi regali E giveaway Attenzione ragazzi Questa è la parte più importante Perché io a breve Tramite sia video su YouTube Che avviso su questo gruppo di Steam Metterò un gioco Semplicemente un gioco Per voi Che potete avere la possibilità di vincere Dove lo metterò? Non ci sarà random.org stavolta Ma ci sarà Steam Gift Allora vi spiego perché ho scelto Steam Gift E non random.org E quelle robe lì Semplicemente perché Con Steam Gift posso permettere Che a un giveaway Cintino solo le persone Che appartengono a un determinato gruppo E in questo caso Il mio qua Di ShendVideogamer Quindi solo le persone Che fanno parte Del gruppo di Steam Di ShendVideogamer Possono partecipare A quel giveaway Quindi non ci sono problemi Se non siete nel gruppo Non si può vincere nulla Se c'entrate Sì Facile Veloce E gratuito Così evito di trovarmi Anche persone Che Steam Non lo hanno Non lo usano O non gli possono mandare Nessun tipo di regalo E quindi si evitano Tutti quei casini Che Succedono praticamente Sempre Quando faccio un giveaway Ma che gioco È in palio Beh purtroppo È il primo giveaway Quindi Cioè su Steam Gift È il primo giveaway Quindi dovete Un po' capirmi Che Non posso Subito partire con BAM Call of Duty Cioè È il primo giveaway Per vedere se la cosa funziona Quindi Mi sono prestato A prendere Insomma ho vinto Un gioco Leggero Poco pesante Un giochino Piccolo piccolo Tanto per vedere Se questa cosa Può funzionare Realmente Ma di che gioco Stiamo parlando Beh Dobbiamo andare Su Fraps E sul gioco Per vederlo Quindi Taglio Taglio effettuato Oddio Cos'è sta roba Siamo in palio Siamo in palio Siamo in palio Ok, retype your password Done Applain corporation as office around the world Ok, in sintesi credo che abbiate perfettamente capito che gioco è È un gioco di hacking Un gioco in cui potete esercitare le vostre abilità di hacking Per cercare di fare grandi colpi finanziari Ottenere informazioni private che magari possono essere utili a qualcosa E robe del genere E il gioco consiste in questo È un gioco molto facile Insomma, facile Voglio capire un po' come funziona per riuscire a farci qualcosa Ma credo che come primo giveaway ufficiale Proprio ufficiale ufficiale che si vince decentemente sto gioco Possa andare bene Quindi ragazzi, vi lascio il link del Del gruppo Steam, del scendessente È in descrizione E dopo un po', non subito appena pubblicherò questo video Ma dopo un po' verso magari Non so, magari questo video potrebbe uscire a mezzo giorno all'una Verso le 5 o 4 Metterò in descrizione anche il link del giveaway Che potete cliccare ed entrarci solo se avete Joinato nel gruppo di Shen Videogamer Quindi ci vediamo al giveaway Qui da Shen è tutto Bye bye Ciao 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 Grazie per la visione!